Benvenuti cari follower. Prima di entrare nei dettagli, se sei un fan dell'inverno, della neve, dei temporali, del freddo e della pioggia, premi il pulsante mi piace per questo video e iscriviti al canale e attiva la campanella su tutte le notifiche. Quindi, come vedete sulla mappa, nei prossimi giorni sono attese grandi quantità di pioggia in tutte le regioni d'Italia, da nord a sud, e precisamente a partire da venerdì 10 novembre 2023. Un temporale molto forte entrerà in Italia portando aria molto fredda, che permetterà la caduta di neve, alle medie quote con piogge molto abbondanti, anche su tutte le regioni settentrionali, centrali e meridionali, con il rischio di forti inondazioni, questa volta anche al nord e al sud. Con una forte ondata di freddo, di conseguenza nelle prossime ore si avrà una temporanea stabilità delle condizioni meteorologiche, con il forte ritorno dell'inverno dopo il 10 novembre, e ulteriori dettagli, rimanete sintonizzati più tardi.